Medico sardo o lombardo, non c'è differenza, o londinese o new yorkese, è cartello quello, quello è cartello perché non puoi dire questo, se tu ti leggi c'è il codice deontologico ok medico dove il medico per esempio non ti può negare le cure, avete mai sentito dire se ti curi all'estero non metteranno mai le mani sulla tua bocca? quello è omissione di soccorso, dovrei levarti la licenza medica, è come dire ti sei tagliato già i capelli da un altro parrucchiere, io non te li taglio, invece la verità è che abbiamo cambiato un sacco di parrucchieri, come voi avete cambiato un sacco di dentisti, nessun dentista si è mai rifiutato di curarvi, aprivate la bocca e già avevate capsule, già avevate devitalizzazione in bocca.